eccoci ragazzi iPhone 14 plus il modello secondo me più interessante tra i più interessanti della serie 14 meno capito poco capito all'inizio per la fascia di prezzo in cui era stato collocato un po' alta tra il pro e i 14 normali ma adesso col calo di prezzo sotto i 1000 euro deciso secondo me è veramente il più equilibrato ed il più intelligente che apple ha fatto tra i più equilibrati e più intelligenti che apple ha messo sul mercato prima deca srl l'utente più veloce dello scorso video super saluta te al prossimo utente che per primo arriverà a commentare nel video bene un iphone veramente molto molto bello bella linea quella classica del 14 plus l'ho già come vedete protetto con il suo bumper e con una pellicola in hidrogel installata subito in modo che sia display che telefono siano protetti consiglio sempre questo abbinamento per la protezione massima qui abbiamo la parte dietro sempre con la classica mela fotocamera una fotocamera che si comporta bene da 12 megapixel frontale e retro che si comporta bene comunque nell'uso quotidiano buone foto buoni video fino al 4k sull'utente competitiva con i fa e fascia alta chiaramente non è la pro ma per chi non è interessato ad avere video professionali o foto professionali a parte che i video in 4k li fai tranquillamente livello elevatissimo anche con questo che se non volete una fotocamera proprio se non avete le esigenze di una fotocamera super top con tutte le opzioni professionali eccetera va benissimo il 14 plus in questo caso plus perché al display più grande se invece siete amanti o maniaci della foto e dei video allora potete puntare su quel su quella tipologia di dispositivo pro quindi 14 può 14 pro mac che in più questo è molto più leggero c'è una differenza di più di 100 grammi a favore del plus si maneggia bene nonostante il display ampio e molto molto bello magnifico veramente display oled punti di forza la batteria veramente il telefono ad oggi con la batteria più durabile che io abbia provato due giorni sotto stress medio alto due giorni e mezzo con uno stress medio basso e con uno stress elevatissimo andiamo tranquillamente al giorno dopo una giornata e mezzo veramente una batteria infinita vuoi l'ottimizzazione vuoi i 60 90 hertz del display che non sono i 120 del pro i consumi sono ridotti pur usandolo parecchio andiamo un pochino con le caratteristiche del display un oled da 460 ppi 6,7 pollici veramente bello 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 1284 per 2778 pixel 60 90 hertz quindi refresh che arriva fino a toccare anche i 90 hertz quindi una via di mezzo tra il 120 e il 60 60 90 1200 nit quindi un punto di luminosità molto molto elevato fotocamera come vi dicevo nel 12 megapixel video fino al 4k sia frontale che dietro molto valide foto nel quotidiano che vanno benissimo batteria 4325 miliampere ora super autonomia veramente l'iphone ma soprattutto lo smartphone con l'autonomia più elevata che io abbia provato 5g ovviamente bluetooth gps e che più wifi con tutte le caratteristiche di ultima generazione anche la connettività ovviamente è assolutamente al top oramai tutti i dispositivi sappiamo avere comunque una connettività al top 4 giga di ram a 15 bionic apple il processore una gpu a ben 5 core insomma un dispositivo che non fa mancare nulla molto molto fluido e competitivo doppio audio qua lightning ovviamente qua l'accensione spegnimento richiamo di siri volume più o meno il silenzioso insomma tutte le caratteristiche sorte sblocco face id ovviamente tutto quello che è l'aggiornamento 1613 di iphone non so partiamo con la parte chiamate chiamiamo il servizio clienti ma iphone qua si comporta sempre bene qualsiasi iphone ha sempre un volume di la voce ovviamente audio del viva voce elevatissimo audio in generale validissimo come tutti gli iphone ovviamente nella parte telefonica sono al top assolutamente parlando di audio andiamo ad ascoltare appunto una una canzone e no copyright in modo da poter valutare anche le prestazioni dell'audio sentite voi che pulizia parte audio al top come solito iphone non ci tradisce non ci lascia con un audio di non qualità ma un audio veramente tra i più performanti penso solo l'ultra di samsung possa essere competitivo con questo dispositivo pochi altri dispositivi di xiaomi abbiano un audio così pulito forte bassi ben ben amplificati e anche nelle chiamate nuova voce sempre alto vedete molto molto fluido e veloce anche il display è veramente eccellente guardate la definizione che ha i 60 90 hertz lavorano benissimo l'ho provato con il pro anche con il pro max vi dico la verità ho provato i giochi ho provato a metterli a fare un confronto non noti tantissimo la differenza è solo sul refresh ma veramente fatichi a distinguere la differenza tra i due display c'è un punto a favore ovviamente dei pro per il refresh fino a 120 hertz ma assolutamente non è quello che ci farà andare a spendere più soldi per avere un picco di refresh più alto che si nota veramente l'occhio umano fatica a notare anche se chiaramente quel display è comunque superiore perché il pro ha un display a 120 hertz però questo assolutamente non si nota in maniera evidente ed è un particolare assolutamente traspurabile visto il risparmio elevato che c'è sul dispositivo parte gaming assolutamente sì proviamo una una partita con il nostro bubble basta io sono appassionato di questi giochi si comporta bene con tutti i giochi guida insomma anche i giochi che ne richiedono più potenza sempre fluido sempre pronto vedete qua abbassiamo un po il volume perché veramente già a metà come vedete anche il discorso gaming lo prendi lo riprendi il multitasking è sempre attivo senza nessun tipo di problema molto veloce molto fluido da quel punto di vista proviamo a vedere safari beh safari conosciamo già come si comportano gli iphone con safari sono sempre fluidi veloce molto competitivi ma io cerco sempre msn perché il sito più incasinato il sito con la versione mobile più ostica vedete pinch to zoom nessun problema i caratteri sempre veramente ben evidenziati e ben fatti e quindi si vedono veramente bene guardate anche la velocità la reattività vedete anche nella metterlo a 16 noni nessun problema soprattutto lo schermo così ampio ci permette di vedere il netflix comunque piattaforme di streaming che noi abbiamo senza problemi da poter visionare molto molto bene e ci fa godere molto molto di più appunto i contenuti in streaming o appunto video di youtube o altre cose quindi anche qua con netflix abbiamo rimane in quattro terzi la possibilità poi di accedere adesso qua bisogna fare l'accesso comunque i video sono molto molto ben configurati anche dal punto di vista del display che permette una più ampia visualizzazione di tutti i contenuti video da youtube a netflix a prime video ecco la la funzionalità di avere un display ampio è importantissimo al giorno d'oggi infatti perché non più il mini ma un plus perché apple ha pensato che oramai si va su schermi grandi la richiesta dell'utente è lo schermo ampio per vedere video per vedere contenuti per avere uno schermo che possa al godere al massimo le applicazioni quindi il futuro è sempre su schermi da 6 pollici in su 6 e 1 almeno come i 13 14 di base che già stanno stretti ma almeno da 6,4 6,5 in su 6,4 diciamo è il taglio che oramai utilizzano tutti gli android e apple ha scelto di fornire un 6,1 pollici una scelta un po tra non troppo grande ma neanche il non troppo piccolo che può essere anche condivisibile da questo punto di vista a livello di maneggevolezza e di mettersi nel taschino un 6,1 di un 14 normale ma secondo me la scelta più intelligente al momento è questa se non avete l'esigenza di avere il pro per motivi di foto per motivi di video per la chicca del 120 hertz sotto i 1000 euro sull'utente il plus molto meglio del 14 normale molto meglio del 13 innanzitutto il display ha più risoluzione a livello di pixel e anche di inizio di luminosità è molto più ampio ed è aggiornato come tutti i 14 quindi abbiamo un 14 potenziato con un prezzo adesso in questo momento assolutamente competitivo prima forse la collocazione del prezzo lo penalizzava da questo punto di vista chiaramente non era forse collocato bene con il prezzo 1100 1200 insomma era un po troppo vicino però eccoci tornati uno sguardo anche a qualche foto una foto fatta ovviamente al mio router huawei vedete perfetta nessun problema anche da vicino si vede molto bene quindi il punto è scatta le foto uso quotidiano i video a uso quotidiano ma anche video di alto livello per editing vengono molto molto bene la camera stessa del 14 quindi funziona bene lavora bene nessun tipo di problema anche nella parte fotografica certo non a livelli dei pro o dei pro max che hanno una foto camera e dei video nettamente superiore dicevamo un modello secondo me è molto molto interessante innanzitutto punto forte la batteria inarrivabile per qualsiasi dispositivo attuale ma soprattutto per un altro tipo di iphone un giorno e mezzo un giorno abbondante con uso super intensivo due giorni con utilizzo medio alto veramente qualcosa di sorprendente poi per ottimizzazione per display insomma il consumo comunque rimane molto molto ridotto display ampio è veramente top dal punto di risoluzione luminosità quindi abbiamo la possibilità di avere comunque un display da 6 e 7 anche su un modello non pro e con la nuova collocazione di prezzo secondo me è il telefono più equilibrato se uno vuole uno smartphone funzionale grande come tutti gli iphone con un display super più ampio buone foto buoni video super batteria sotto i 9 sui 900 euro adesso siamo veramente arrivati al top molto più senso lui di un 14 a 800 capite voi no con 100 euro in più potete avere uno smartphone assolutamente superiore sotto tutti tutti i punti di vista è uno a uno schermo più ampio a una botteria più durevole del 14 normale un po più di definizione per il resto che le caratteristiche sono le stesse ma avere uno schermo più ampio più autonomia è già qualcosa di molto importante che permette appunto di avere più funzionalità su questa tipologia di prodotto quindi un prodotto assolutamente promosso non che si dica in giro vendeva meno era partito lento io lo trovo l'iphone più equilibrato e più interessante per l'uso medio di tutti gli utenti poi se uno vuole lo scannolo più piccolo c'è al 14 se uno vuole fare foto video e le chicche ed è maniacale su tutte le cose vuole spendere di più si prende il pro ma questo secondo me è il più equilibrato ciao e grazie come sempre